E' stato il coordinatore regionale di Abruzzo in azione l'onorevole Giulio Cesare Sottanelli questa mattina all'Aurum di Pescara ad animare il confronto aperto tra la visione di un economista come Carlo Cottarelli e di un esperto di dinamiche professionali come l'ex segretario generale della CISR Raffaele Bonanni sulle prospettive di competitività del paese di sviluppo delle persone partendo dall'analisi dei dati forniti da indicatori più specifici come l'indice di sviluppo umano ed il benessere equo e sostenibile ed in vista della realizzazione del piano nazionale di ripresa e resilienza. E' un'occasione per fare con i finanziamenti europei le riforme e soprattutto gli investimenti che non abbiamo fatto in passato, quindi questo vuol dire avere migliori infrastrutture dal punto di vista fisico, però avere migliori infrastrutture legali appunto facendo le riforme. Poi ogni regione beneficia di questa cosa perché un paese in cui si cresce di più tutte le regioni stanno meglio ovviamente. Il problema di fondo è, a parte le cose ovvie che il costo del lavoro in tanti paesi è molto più basso del nostro, però questo è vero anche per la Germania, oppure la Germania cresce, le imprese tedesche non delocalizzano. Il problema fondamentale è che investire in Italia, fare attività di imprese in Italia è difficile perché c'è troppa burocrazia, ci sono troppe norme inutili, la giustizia è molto lenta, le imprese vogliono avere certezza nel diritto e per questo non vengono investire in Italia, investono meno che in altri paesi. Quindi bisogna fare queste riforme appunto per rendere l'Italia un paese dove si investe meglio. Le prospettive sono davvero importantissime perché abbiamo a disposizione delle risorse mai avute in Italia, dall'unità d'Italia in poi, neanche il piano Marshall, il piano Marshall non è anche una versione pallida di ciò che si può investire, 200 miliardi sono 200 miliardi, smuovono le montagne capitali di questo tipo, però bisogna saperlo utilizzare e bisogna sapere attrezzarsi. A me non piace questa non discussione su questi temi, non impegno perché non c'è alcun impegno nella discussione di come ci organizzeremo in Italia ma anche in Abruzzo per esempio. Non vedo dibattito, non vedo discussione su cosa sarà e deve essere l'Abruzzo a fronte di capitali che si impegneranno di questi tipi. Siamo ancora in piena pandemia, da 18 mesi diversi parametri sono saltati, c'è una spinta maggiore sull'innovazione, quindi una crescita che si è squilibrata rispetto al passato. Noi abbiamo voluto fare oggi questo evento importante con due persone appunto per fare una foto che ci possa in un certo senso indicare quale strategia per il futuro. Noi vorremmo fare un piano industriale della regione, un piano di resilienza, di sviluppo e di crescita perché non ci stiamo a una regione che non sia una best in classe.